delle invenzioni rollo alberto alberto non c'è che c'è quello che si fanno mette la mangiare del video forse c'è lui se non vorrei che non sa che ho preso il primo lavoro queste sono in base al numero 2 c'è quello che c'è un'idea carlo il segno così è lavorato perché non è vero questo è un ruolo e per me un ruolo e suscite il terzo la pubblica del rai c'è il numero 1 non si trova da nessuna parte